Gloria, 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 gloria Ringrazio la Direzione Nazionale del Pontificio Opere Missionari in Polonia che anche quest'anno organizza l'attività dei Cantori della Stella con il quale tutti i bambini e ragazzi missionari in Polonia si impegnano ad annunciare Gesù e portarlo nelle famiglie e nelle case. Ritengo che questa iniziativa sia molto importante a livello spirituale e formativo ma anche di cooperazione materiale perché i bambini vanno e dimostrano il loro impegno missionario la loro risposta all'invito di Gesù di essere i suoi testimoni e allo stesso tempo danno la possibilità alle persone che incontrano nelle famiglie di partecipare alla missione della Chiesa attraverso il sostegno di progetti a favore di altri bambini nei territori di missione e qui dal Segretariato Internazionale dell'Opera della Santa Infanzia ringrazio la Direzione Nazionale ringrazio tutti i bambini che parteciperanno le famiglie che li accoglieranno grazie a tutti e buon Natale